questo è un video sull'amore e sull'orgoglio un video forte e struggente sul senso della vita insomma questo è quello che ho registrato nelle ultime due settimane buttato lì in qualche modo insomma 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 isso insomma musica 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 secondo te l'hanno chiamato ponte vecchio anche appena fatto? anche quando era nuovo un ponte vecchio nuovo musica musica questi sono gli uffizi e quello la è il campanile della torre del palazzo vecchio musica 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 oh finalmente siamo in piazza della signoria gli altri 17 e questa è la cattedrale la cattedrale e questa è la cupola o per gli amici la cappella del Brunelleschi ma la lì perché questo tocco a punta musica 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 allora questo è uno spritz questi sono due finti smoothies perché non è uno smoothie due succhi li devi succhiare questo è senza il ginger e questo è un bicchiere di teoricamente chianti riserva che invece riserva nel senso che probabilmente la bottiglia era aperta da tre mesi e è tavernello sicuro musica stanno marciando per qualcuno che si chiama Fiorenza musica 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 Che cos'è? Fammi vedere. L'abbiamo presa all'antico vinaglio. Ma quanto c***o è buona. E oggi bagnetto a Fjasterdam. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But she's looking at you. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti